Benvenuti a questa nuova lezione del corso Tinkercad, oggi parleremo di importazioni e in particolare di importazioni di forme vettoriali. Allora, cosa vuol dire forme vettoriali? Cioè disegni bidimensionali che attraverso l'importazione in Tinkercad diventeranno a tre dimensioni, quindi praticamente subiranno un'estrusione. Ma partiamo subito. Per importare un oggetto all'interno del nostro piano di lavoro esiste il tasto Importa. Eccolo qua su, fino ad ora non l'avevamo utilizzato, oggi vi farò vedere come funziona. Quindi, cliccando su Importa, si aprirà una finestra che vi permetterà o di trascinare un file bidimensionale svg, ecco questa è la cosa più importante, i file che possono essere importati sono file vettoriali, non file raster. Qual è la differenza tra i due? I file raster sono le immagini con cui siamo più abituati a lavorare, quindi jpeg, png, gif e così via, che sono immagini formate da pixel. Al contrario, i file vettoriali sono quelli che si ottengono da programmi tipo Illustrator, Inkscape e sono immagini delimitate da forme poligonali, quindi fondamentalmente li possiamo accostare molto ai solidi con cui abbiamo lavorato fino a qui. Ed è per questo che possono essere importate, perché sono forme descritte da formule matematiche. Bene, quindi ricordatevi che non potete importare direttamente un file jpeg, ma dovete importare un file svg. Se non avete il file svg dell'immagine che vi interessa, non è un grandissimo problema, perché online esistono tantissimi convertitori gratuiti che vi permettono di trasformare il file jpeg in un file svg. Quindi, come stavamo dicendo, per importare il file potete o trascinarlo all'interno di questo rettangolo, semplicemente facendo drag and drop, quindi portandolo all'interno e rilasciandolo, oppure scegliendolo tra quelli presenti sul computer. Io ho già scaricato un file che ora andrò a scegliere, eccolo qua, si chiama Toscana, tra i vari file che ho. Una volta selezionato, come vedete, Tinkercad vi dà un'anteprima del file che state per caricare. Il mio si chiama toscana.swg, è la mappa della Toscana in bianco e nero. E qui potete decidere la scala a cui importarla, e questo dipende sostanzialmente dalle dimensioni dell'immagine che avete utilizzato. naturalmente le dimensioni possono essere grandi fino a un certo punto. Se io qui lo voglio scalare mille volte, vedete, mi viene subito un messaggio di attenzione che l'area di Tinkercad non può essere superiore ai mille millimetri cubici, quindi i valori che invece sono andato a dare io scalando mille volte la mia immagine è 4.000 per 3.700, quindi è troppo. Devo andare a ridimensionarla all'interno di quella che è l'area massima di Tinkercad, quindi in questo caso possiamo riportarla o a quella che era la dimensione, oppure per semplicità lo possiamo dimensionare 200 e avete visto io ho dimensionato solamente la lunghezza, la larghezza si è ridimensionata automaticamente. Bene, quando sono pronto, cliccando su Importa, c'è un attimo di elaborazione dell'immagine dove naturalmente, eccolo qua, queste matematiche vengono trasformate e vedete l'oggetto che è stato importato è già un oggetto tridimensionale, bene, quindi l'immagine bidimensionale è stata estrusa. Questo è a tutti gli effetti un oggetto come quelli che abbiamo utilizzato fino ad oggi, quindi su questo oggetto potete andare a fare tutte le modifiche che vi ho fatto vedere nelle lezioni precedenti, per cui da forma solida cambiare di colore piuttosto che impostarla come una forma vuota, ok? Può essere salvata fra le forme preferite, bene, quindi se voglio posso con raccolta di parti andare a creare la mia parte assegnandogli un nome, in questo caso la chiamiamo Toscana e posso salvarla. Eccola qua, ho creato una nuova forma e l'ho inserita all'interno di Tinkercad. Bene, questo ovviamente è molto molto utile se dovete andare ad inserire all'interno dei vostri progetti delle figure particolarmente complesse da modellare con le forme che vi offre Tinkercad. Quindi potreste fare un passaggio ulteriore, quindi andare a disegnarle in due dimensioni e poi semplicemente estruderle e includerle all'interno dei vostri progetti. Come vi facevo vedere prima, giusto per darvi qualche idea, con queste forme immaginate di poterle fondere con tutte quelle che sono le forme di base già presenti su Tinkercad. Quindi per esempio andare a creare immagini in rilievo posizionate su una base, magari poi andiamo anche a centrarla, eccola qua. Eccola qua, bene. O al contrario, se voglio, posso creare una sorta di stencil, magari andando a far sì che la mia immagine elaborata dall'SWG vada a scavare un piano e quindi ecco, dal positivo ottengo il negativo. Bene, per cui le importazioni delle immagini SVG in realtà vi danno un grandissimo ventaglio di possibilità per implementare immagini o forme che altrimenti disegnate direttamente su Tinkercad sarebbero abbastanza difficili. Immaginatevi di dover fare i bordi frastagliati in questo modo della regione, chiaramente modellarli con le forme a disposizione, forse non è impossibile, ma sicuramente vi richiede tante tante ore di lavoro. Così in un attimo avete un'immagine o un'elaborazione molto molto precisa e molto veloce. Naturalmente quando decidete le immagini da importare considerate che la figura di partenza deve essere il più possibile chiara e nitida e netta. Bene, per cui io ho importato un'immagine dove ad alta contrasto, avete visto l'immagine di partenza, era bianco e nero e le figure disegnate sopra erano ben distinte tra loro. Se io avessi importato un'immagine con figure sovrapposte o molto confuse sicuramente il risultato che avrei ottenuto sarebbe stato peggiore rispetto a questo o comunque poco utilizzabile in generale. Bene, per cui considerate sempre di convertire l'immagine prima in bianco e nero da JPEG, dopodiché fare il passaggio da JPEG a SVG oppure utilizzare direttamente immagini in bianco e nero perché danno una resa migliore in quanto il contrasto tra la parte che deve essere creata e deve essere evidenziata e quella che invece va rimossa è molto molto forte. Ricordatevi che l'immagine che io ho importato, ora torniamo all'inizio, eccolo qua, era questa. Bene, dal mio SVG io ho importato questa immagine. Per cui, niente, questo è comunque un fatto importante perché utilizzare una buona immagine di partenza è probabilmente il 90% della riuscita del progetto. Bene, perfetto. Un ultimo consiglio, se volete creare delle forme SVG, delle immagini SVG in maniera veloce senza utilizzare programmi magari un po' più complessi come Inkscape o Illustrator che vi dicevo prima, un'ottima soluzione è utilizzare Disegni Google, quindi questa applicazione che è all'interno di G Suite e che potete utilizzare molto molto facilmente. Passo un attimo a farvela vedere, quindi cambio un attimo l'immagine. Eccoci, Google Disegni è un'applicazione molto molto semplice, la cosa interessante è che vi permette di disegnare utilizzando per esempio linee, o che siano linee semplici o che siano polilinee, comunque eccolo qua. vi permette di creare figure geometriche, come potete vedere, eccolo qua, in maniera molto molto semplice. Qual è la... potessiamo anche andare a colorarlo, come vi dicevo prima, nero. Perfetto. Qual è l'utilità? L'utilità è che da Google Disegni, da File, potete andare direttamente ad esportarlo, eccolo qua, scarica come immagine vettoriale, quindi è un'immagine .svg, che poi potrete andare ad importare in Tinkercad. Bene, per oggi ci fermiamo qua e vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie. Grazie.